ciao amici di youtube bentornati sul canale oggi siamo su un cast a rail a pullare per topaz in questo video vedrete le mie pull e poi tutti gli highlights dei sub che hanno pullato non credevo avremo pullati in così tanti topaz ovviamente meno rispetto ad altri personaggi super aspettati ma comunque siamo stati tanti oggi quindi è stata molto divertente poi oggi vedrete il riassunto tramite questo video io come sempre vi invito a passare in live dove ci guardiamo le pull insieme che sono il momento più divertente probabilmente delle nostre live uno dei momenti preferiti sicuramente la maggior parte della community vi invito a iscrivervi oltre che su youtube sugli altri social che trovate in descrizione e vi auguro buona visione alla pt11 andiamo a pt21 e cerchiamo di portarci a casa le signorine loro due le costellazioni di luca ora non mi interessa tantissimo però comunque ci stanno quell'altra sono delle pull quindi vada come vada appunto sono costellazioni di un personaggio che non ho finito quindi va benissimo e sempre meglio di un banner in cui c'è il retap pela i banner in cui c'è il retap pela io non pull e una pull buono buono visto che vi ho detto ci sono liste gritte da parte non so se li useremo almeno ci sta allora andiamo a 31 vediamo non percepisco early pity quindi non percepisco cose prima del soft anche perché jingliu mi è uscita l'avete visto quindi non mi lamento a sto giro al pt probabilmente ci arriviamo speriamo di trovare un po di quattro stelle durante il percorso ora qui mi è uscito a fine molti il pollo quindi sarà a fine molti eccola subito top bene almeno l'ansia di dire un almeno in un in un pt da portare a casa perfetto ce l'abbiamo perché c'era anche il dubbio del magari non me ne esce nemmeno una le nuove molti cioè in un pt e mi metto a piangere perfetto allora sono in pace con me stessa ora più me ne escono meglio me ma la numero uno la volevo e no eravamo 11 21 31 andiamo a 41 andiamo a 41 41 liscio allora blade di sicuro mi è uscito a pt bassissimo però anche jingliu tipo a pt 40 50 vincendolo quindi anche quello comunque è stata una cosa che non mi aspettava e non era previsto simbiamente nella mia testa che dovessi vincerlo soprattutto a pt 40 50 allora vediamo va bene sono pull visto che non so se vincerò il 50 e 50 top si doppio 4 stelle ottimo 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 bene pull più e uno bellissimo bellissimo pull più e uno bellissimo ok 51 liscia assolutamente vediamo allora e ora doppio non ci sarà perché era l'ultima era praticamente l'ultimo 4 stelle delle multi però va bene dai due multi con doppio 4 stelle di fila la sono contenta questo l'ho fatto refine 800.000 ciao gian buon pome devo dire sono andate bene a parte un paio di intoppini ma sono andate molto bene ok 61 liscia vediamo se anche io mi unisco al team della 72, 73, 74 se è coi magone veramente va bene ok allora non me le so lette le idolion di one defense sono sincera non so qual è quella per cui valga veramente la pena se l'hai 1, l'hai 2, l'hai 4 non ne ho idea se è buona sulle 6 non lo so un'altra pull mi sa che lo perdo e che quindi mi sta rinforzando con le sushang dicendo mi tieni vai che poi dopo arriviamo a perderlo 71 bene se si vince o gg se si vince o gg se si perde se la vi anche rima noi si spera di vincerlo ovviamente ok vediamo un'altra pull e 4 è buona 4 la facciamo con un paio di banner probabilmente allora ci siamo raga io mi sono fatta tipo 5 pull mi sono fatta 5 pull 6 pull era 41 6 pull mi sono fatta nel frattempo allora 3 singole e poi multi quindi 72 ora qui è un casino qui adesso ognuna è un casino allora tanto il 4 stelle in fondo 73 ok e 74 l'ultima meno male meno male abbiamo spottato la nostra multi così per farci venire bene l'ansia di vivere let's go pt74 andiamo a pt84 multi dei 5 stelle almeno non siamo proprio sfigatissimi però ecco almeno qua vediamo vediamo 75 potrebbe essere subito no 76 77 78 oddio che paura 79 si oh meno male meno male abbiamo vinto meno male oh meno male io questa me la sentivo persissima quindi bene sono contenta almeno la metto nella fotina di rito le mie solite fotine di rizusceme oh molto bene molto bene abbiamo vinta adesso finiamo la multi pt1 2 3 4 5 fine dovrebbe essere no a parte no ti è uscito oh ecco early early 72 vedi 72 non possiamo nemmeno fermarci non sappiamo niente metteteci il simbolo ant simbolo ant oddio anzi ragazzi no claudia vedi che non dovevi parlare di geppard poco fa l'ha parlato di geppard lo volevo mettere in team facciamo un team per chiamare la topaz mettiamo geppard e team io no claudia stai lontana da questi personaggi che poi te li chiami ma che dici è successivamente mi sento io quando mi sono chiamata la gai shing quella mattina io oggi trovo le shing tac quanta cinquanta ma dopo vedete anche quelle ma non ti servono perché qui eccolo qua trovata trovata meno male early raga meno male meno male meno male dov'è paolo dove sta dove sta no scusa io prima di andare avanti io voglio voglio fare un attimo una parentesi così impari così impari perché due una volta ti va bene l'altra volta no andiamo avanti questa è la luna la luna oh ma sto tipo qua va bene buildami buildami va bene amore mio eccolo eccola vado vado vai oddio alla gappa quando ci sarà il biscotto sì il biscotto il biglietto che cos'è che cos'è aiuto sta esplodendo che cos'è aiuto è una volta esalmente potente che è troppo grassare la fai tutti grazie massimo 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 allora ma che è un problema perché è troppo tutto io mi lo deconfile come è il mezzo in sicilia no no mi ha preso 25 gradi amici mentre ho soleggiato mi dice qui mi abieto io ho sinistro il mio monitor anche se c'è a mia tarassione del vento io se scuolo io ho il mio caldo io non so per vento sicilia non posso spegnere il tablet non lo puoi muovere cazzo non lo puoi muovere 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 poi 74 ultima singola per poi fare multina l'ultima speranza di trovarla in singola anche se niente l'ultima 5 stelle 5 stelle oh se esce veramente Gepard è tutto scriptato a PC74 non è Claudia no? l'ha vinto dopo averlo ruffato a Claudia l'ha vinto sei un mostro Paolo sei un mostro momento zen può essere anche la prima singola perché è il soft quindi potrebbe già essere ok 67 68 ci siamo? Gattini dove? micetti micetti ho troppo arena non posso farcela è veramente troppo carina ma non è una luce di lei no veramente è un pozziochetto no andiamo ha detto andiamo 5 stelle eccolo dai dai topaz dai 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 pon pon vola fraschium costellazione di fraschium ma che cazzo ma perché non è luce boh fraschium così da nulla che paura veramente ha ragione porci ma scrive che paura questo proprio così random a casa che sono spaventato ma che chissà com'è va bene ok 75 era fraschium 76 77 78 yes l'abbiamo vinta al porci porci e numbi riuniti in eternità pd78 e wewa come direbbe la mia amica Yara andiamo a 33 5 stelle 5 stelle 5 stelle oddio 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 aiuto allora siamo a pt24 con questa singola 24 25 26 27 28 siiii bt28 bt28 gattini 72 5 stelle 5 stelle anche qua prima della 74 no dai raga ma com'è possibile yes ma com'è possibile ma com'è possibile vinta ad albi li vinco sempre ragazzi io dopo lo perderò di sicuro e lui lo vince sempre lui lo vince sempre quindi vai vai andiamo pt81 subito subito 5 stelle subito 81 subito 81 no ragazzi no no alice no no alice no no ragazzi non è possibile non è possibile ma questo account è scriptato andiamo pt74 5 stelle è lei ne vogliamo due magari allora è lei lo sappiamo cerchiamo 75 76 77 eccola qua pt77 pt40 andiamo a pt50 early pt early pt early pt early pt raga oddio 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 c'è il 5 stelle oddio oh mio dio ciao ciao pingu allora 41 42 43 44 45 46 47 ti mancava vabbè 48 49 è l'ultima 50 21 40 40 40 40 40 42 40 41 41 42 42 45 Grazie a tutti.